Allora, ciao a tutti, ci troviamo all'aeroporto di Maltesa, già siamo alla prima sosta perché ci siamo fermati. Vi presento i compagni di viaggio e se raccontate chi siete e che cosa fate. Io sono Tiziana, lavoro per CBM e con Daniele faremo questo viaggio che sarà un'esperienza bellissima, anche se è un po' difficile, però saremo felici di raccontarvi tutto. Un'altra splendida donna. Ciao, io sono Laura, sono sempre con Tiziana e Alessandro di CBM. E Ferrarese. Sono Ferrarese, ma ormai trapiantata in Milano da un sacco. Uno scusa, dice, vai accompagnato dalle donne? No, adesso vi presento anche la parte maschile. Ma l'istituzionale. Se si può presentare, ecco, la parte istituzionale. E sono Luciano e sono contento di andare con Daniele e gli altri su Virat Nagar. E il direttore. Mamma mia, il direttore. Si presenta, si deve. Per vedere quello che stiamo facendo a Virat Nagar. E infine... Alessandro, l'operatore video. Ecco, che abbiamo già messo al lavoro, come potete vedere. Ci vediamo dopo.